Salve cari e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio parlarvi, come avrete anche sicuramente letto dal titolo della differenza tra OF, Holyfans, e il porno in generale Perché voglio fare questo video? È molto molto semplice Perché ho sentito ultimamente poi in maniera veramente preponderante Non so cosa vuol dire preponderante, però va bene così che tante donne, tante ragazze che fanno questo mestiere su OF si spacciano proprio per attrici porno E questa cosa mi dà un sacco fastidio Perché? Perché non ti puoi permettere di sminuire il porno dicendo una roba del genere Perché tu dicendo una roba del genere sminuisci il porno Adesso ci arriviamo Io credo che anche il mondo del porno è un mondo lavorativo professionale Difficile, ma è un discorso veramente lungo Dovrei farci un altro video su questa cosa Se poi magari volete ne parliamo Non voglio dilungarmi troppo, voglio solo parlarvi delle differenze Però è un lavoro veramente difficile E non puoi permetterti di dire una cosa del genere Perché c'è un abisso dall'uno all'altro C'è veramente un abisso Cominciamo proprio a parlare di OF Vi dico la verità Io questo video lo volevo registrare da all'incirca una settimana e mezza Ok? Poi tra una cosa e l'altra Ci ho messo un po' di tempo in più Ma qualche giorno fa Veramente in maniera casuale Ho rivisto una ragazza Ho visto una ragazza che è sul web Tranquillissima Che non sapevo avesse OF E sono andato a vedere i suoi contenuti E sarà il destino Sarà qualsiasi cosa Ma ho detto Wow Wow Attenzione Questa ragazza non fa nudo Fa foto sexy Foto in intimo Ma Vi dico la verità Se io dove Se lei caricasse tutti i giorni foto Roba del genere Io sarei contento Perché lei Fa le foto In maniera Professionale Per essere una ragazza così giovane Che se non mi sbaglio C'ha 22 anni Magari c'è anche Della gente che lavora dietro di lei Anche perché far tutto da sola È un casino Tutte le foto che fa Tutte le foto che fa Sono incredibili ragazzi Incredibili Dall'outfit Dalla location Dalla posizione Dallo sguardo Tutto incredibile Quindi qualcuno c'è Che gestisce le cose Non penso tu possa far tutto da sola Bravissima Ed è giusto Pagare per questo contenuto Perché è un contenuto Bello Fatto bene Ed è giusto pagarlo La professionalità Si paga In questo caso Lei è professionale E va bene così Ma Tolta lei Che a mio avviso Se la inculano Quattro persone in croce Tolta lei Anche se è professionale Non se la inculo nessuno Andiamo a vedere qualcuna Che Purtroppo È Più conosciuta Ma è una cagna Nel senso Non è capace A fare il suo lavoro Il suo lavoro Non è capace A fare questa cosa Qui Perché io Ve lo giuro Su quello che volete Ho visto Foto Caricate Su OF Quindi A pagamento Di ragazze Vestite Così Così Queste erano le foto E io devo pagare Questa roba qui Ascoltami Io devo pagare 15 euro Per vederti così No Questo vuol dire Essere veramente Una ladra E una cagna Nel lavoro Che devi fare Tu lo spacci Per lavoro Per questa roba qui Ok Allora C'è un'altra tizia Non farò il nome Poi se mi uscirà Mi uscirà Sti cazzi Ma c'è un'altra tizia Che fa OF Ho visto i suoi video Ho visto le sue foto Ed è Terribile Terribile nel senso Quello che porta È Immondizia I video Sono immondizia Le foto Sono immondizia Perché è seguita Perché c'ha un bel viso Molto semplice Perché ha un bel viso La seguono Perché ha un bel viso Ma le persone Io li ho letto I commenti Si sono Rotti Il cazzo Non posta mai niente Tutta roba di merda Immondizia Schifezza Di qua e di là Ma quand'è che farà qualcosa Non lo farà Finché ci sarà Anche uno solo Che paga Per questa immondizia Lei non porterà Niente Di diverso Niente Mi dispiace Non farò nomi Ma non porterà Niente diverso E di queste tipo Io Ne ho in mente una Ma ce ne sono Milioni Di questi tipo Sia in Italia Che all'estero Milioni Milioni Invece l'altra Che non sarà in cuna nessuno Che ha pochissimi follower Super mega professionale Vabbè Lasciamo stare E adesso arriviamo al clu Alla ciccia I video I video I video amatoriali Quindi Quelli di OF Perché sono amatoriali Amatoriali Sono immondizia Mi dispiace dirlo Il 90% dei video Sono immondizia Io non ho mai visto un video Di dire wow Che bel video Che è stato preso da OF Mai 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 Non è che ne aveva visti tantissimi Ma mai Poi magari mi sbaglio Qualcuna è bravissima Io mai E quindi Non ti puoi Permettere di dire Io sono un'attrice porno Perché Dall'altra parte Chi fa porno Non c'è solo l'attrice O l'attore C'è gente che lavora dietro C'è il regista C'è il fonico C'è il cameraman C'è Quella che La truccatrice C'è C'è Il mondo È un lavoro È un lavoro Veramente importante C'è È importante È importante È un lavoro Importante C'è È un lavoro Anche difficile Non puoi permettere Di dire Io sono un'attrice porno Finché non lo sei Veramente Non ti puoi permettere Di dirlo Perché Scusatemi Allora io Con la mia ragazza Faccio un video Ok Ce lo guardiamo Per caso Finisce sul web Boom Sono un attore anch'io E un'attrice anche lei No È una roba Amatoriale E deve rimanere amatoriale Va bene così Ma non dico una cosa del genere Perché mi farei schifo da solo Ma non lo dico Adesso Prendiamo Facciamo un caso Io sono un regista Di film Porno Sono regista In questo momento Va bene Devo Sentire Devo chiamare Degli attori Per dire Volete venire Io ho pensato a questo film A voi Volete venire Non volete venire Va bene Chiamo gli uomini Se sono impegnati Va bene Se no Vengono senza nessun problema Perfetto Devo chiamare le donne Cioè Devo chiamare le donne Tu mi dirai Anche loro sono come gli uomini No 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 Perché loro hanno Una Un problema Che non possono farci niente Perché non è un problema Non posso farci niente Ovvero le loro cose Sì Se io sono un professionista E ho bisogno Di un'attrice E quell'attrice Mi dice Guarda Non posso Perché in quel periodo Mi vengono le mie cose E non posso recitare Che faccio io da regista Aspetto Blocco i lavori Per quel video lì Blocco tutto Perdo dei soldi Perché alla fine Perdo dei soldi Perché vanno via Un sacco di soldi Oppure chiamo qualcun'altra Che faccio Vi lascio a voi la risposta Ragazzi Quindi È una cosa Professionale Anche difficile Poi vabbè Regà Come ho detto Ci sono milioni di roba A cui dovremmo parlare Magari ne parleremo In un altro video Fatemelo sapere Però ragazzi Io Se dovessi mai Mai Caricare qualcosa Sul web Di spinto Di queste cose qui Con la mia ragazza Io non mi permetterei Di dire Sono attore Porno Capito Perché è un lavoro E allora scusatemi Faccio un esempio Magari più facile da capire Io vado a giocare a calcetto Con i miei amici Sono calciatore Sbagliato Non mi pare sia sbagliato Vado a giocare a pallavolo Io sono un pallavolista Vado a nuotare Sono un nuotatore Vado a giocare a tennis Sono un tennista No No È una cosa amatoriale Se tu fai una cosa Amatoriale Rimane amatoriale Può diventare professionale Se decidi Di cambiare E far diventare Quello il tuo lavoro E poi sì Diventi attore O attrice porno In questo caso Se no rimane amatoriale Non puoi dirlo Mi dà veramente Molto fastidio A sta cosa O lo fai in maniera Professionale Tutto professionale Che comunque Non sei un attore porno Perché anche se lo fai in maniera Professionale Non sei un attore porno Oppure niente Ti dici Guarda sì Io faccio questa cosa In maniera amatoriale Con i miei amici Mi diverto Tutto il resto Piglio le malattie E no Perché anche questo Bisognerebbe parlare Ma lasciamo stare Vabbè ragazzi Allora Io Credo Che Holyfans Adesso non so Come sta andando Se andrà bene Penso vada bene In generale Però Non so quanto durerà ancora Io ho visto Attrici porno Smettere Di fare l'attrici porno Per dedicarsi A OF Perché è più redditizio Ed erano attrici porno Anche famose Erano Molto molto conosciute Hanno deciso di smettere Comunque di prendersi Una pausa Dal porno Girato Per fare foto O video Con il proprio compagno E caricare quelle Tanto ormai Sei conosciuta Le persone ti seguono Anche su OF I soldi Li fai comunque Li fai anche parecchi Ci può stare Si può stare Alla fine tu Devi Magna Quindi in qualche modo Si riesce a magna meglio Facendo OF Buon per te E niente ragazzi Io vi ringrazio Per avermi ascoltato E vi invito A iscrivervi al canale Se ancora non lo siete Lasciare un bel like E condividere A TUTTI I vostri amici Anche se ne avete pochi Vabbè Ragazzi a uno Condividetelo E se volete Altri video Del genere Mi raccomando Scrivetelo nei commenti Anche il treno vi saluta Tipo il terzo che passa Io non ne posso più Alla prossima Il treno proprio È il cazzo Ma non è il palle Alla prossima